Bella ragazzi, qua è Ghiotto martedì mattina e si parla di calcio mercato Lazio Diciamo che è la settimana che precede il big match dell'Olimpico Lazio-Napoli sabato ore 18 Ho già l'ansia ragazzi, ve lo dico ho già l'ansia E sabato e domenica ci saranno tre scontri decisivi Secondo me si decide già un pezzettino di scudetto Perché c'è Lazio-Napoli, noi non siamo in lotto scudetto perché Juve e Inter hanno qualcosa in più Però in questo momento siamo lì, quindi io vivo partita per partita ma appunto sicuramente a vincere le tutte Poi c'è Inter-Atalanta che è forse la partita più imprevedibile Secondo me può succedere di tutte E poi c'è un Roma-Juve anche molto interessante anche perché storicamente la Juve a Roma spesso perde Allora, ma parliamo sempre di calcio mercato Allora, la Lazio ha chiuso per Escalante, vi ho fatto il video qualche giorno fa, lo trovate sul canale Arriverà al 99% a giugno anche perché Beriscia si vociferava, Verona, Spal, Brescia eccetera eccetera Ma alla fine di concreto non c'è nulla, lui pensa non sia proprio contentissimo di andare in una squadra del genere Quindi secondo me alla fine purtroppo Beriscia resta dalla Lazio e poi io spero che a giugno lo diamo via Perché veramente è un mattone che è inutile, un mattone assolutamente inutile Però si parla di un interesse per un croato, Marco Piazza che in questo momento è di proprietà della Juve Arrivato alla Juve 3-4 anni fa, non ha mai inciso e anche a causa infortuni Lui è un classe 95 quindi comunque ancora abbastanza giovane, 24 anni Vice campione del mondo con la sua Croazia, poi è andato in prestito allo Schalke Ma non ha fatto bene, è andato in prestito alla Fiorentina ma non ha fatto bene Purtroppo è un giocatore sicuramente che le qualità le ha, secondo me è un po' sopravvalutato E lo dico fin quando giocava nella Juve, lo vedevo Un giocatore sicuramente discreto ma non da Juve ma neanche da Lazio ecco E magari in una Fiorentina sicuramente poteva dire la sua Ma purtroppo ragazzi ha un problema infortuni È un ruolo che ci serve perché lui può giocare alla sinistra, alla destra o anche seconda punta Quindi in un 3-5-2 potrebbe tranquillamente giocare appunto affiancato a Immobile, affiancato a Caicedo Ecco, ha una punta vera e non sarebbe sicuramente titolare, sarebbe un'alternativa Ma no, io l'ho sempre detto, abbiamo bisogno di un'alternativa in attacco Perché per ora Corea, Immobile e Caicedo non hanno mai avuto infortuni Ma dovesse capitare un infortunio, noi giochiamo a due punte e restiamo senza riserve Ok? Se uno si infortunasse Quindi io come ruolo Marco Piazza mi piace 185 cm, 83 kg, quindi anche gran fisico, grande presenza E anche in arra di rigore, un giocatore anche che sa fare gol Anche se nella sua carriera, a parte nella Dinamo Zagabra dove ha realizzato in circa, vado a memoria 65 presenti, 19 gol Poi nella Juve ha fatto pochissimo, nello Schalke qualcosina in più Nella Fiorentina neanche un gol Quindi nella sua carriera diciamo non ha mai dimostrato tantissimo le aspettative che si avevano su di lui Però diciamo che io dovesse dare un giudizio, non lo vorrei Non lo vorrei alla Lazio anche perché appunto non vorrei che arrivasse Magari poi si infortuna e non lo possiamo appunto schierare in campo Quindi se proprio è l'unico che possiamo prendere, che la società Kettare vuole prendere Allora per restare così preferisco prenderlo, un Marco Piazza Perché è un ruolo, ripeto, che ci serve Però io virerei su altri obiettivi Poi io so se avete l'idea che queste sono voci e che la Lazio a gennaio non farà niente Ahimè, non farà niente Io ripeto, almeno un acquisto è secondo me necessario Non è che si può fare se c'è l'occasione, è necessario Secondo me perché la rosa della Lazio comunque Sì, si sono scoperti giocatori come Cataldi Anche comunque lo stesso Gioni che sta migliorando e tutto Però è una rosa comunque corta Però se lo tritettare e non vogliono cacciare i soldi Ragazzi, resteremo così Comunque quei 13-14 giocatori buoni ce li abbiamo Però poi non mi venite a dire se magari la Lazio comincia a perdere qualche partita Arriva magari quarta Voglio dire scala di una posizione Magari rischia addirittura, chissà, di essere rimontata Di arrivare quinta Perché ragazzi il calcio è strano Ne abbiamo vinto 9 di fila Ne possiamo perdere 3 di fila E allora poi potremo avere dei rimpianti a gennaio Di non aver fatto qualche piccolo ritocco Perché la Lazio basta poco per essere a livello di Juve e Inter Però se non si vuole fare il salto di qualità Poi non lamentiamoci se arriviamo magari i quinti Perché ragazzi nel calcio tutto può succedere Non penso, però non me la voglio fare Ma ragazzi, tutto può succedere Verso intanto parliamo poi di Lazio-Napoli Perché c'è Lulic che ha una distorsione alla Caville Uscito malconcio dal Rigamonti Anche Correa ha un affaticamento Ma Correa penso non ci siano problemi per la sfida di sabato Lulic e speriamo di recuperarlo ragazzi Perché è un giocatore fondamentale In questa partita soprattutto col Napoli In cui devi soprattutto anche pensare a difendere Non solo ad attaccare Lulic è fondamentale Gioni ha partito in corsa Ha dimostrato anche col Caleri Col Brescia è entrato bene Però non sa ancora fare quel ruolo lì Soprattutto in fase difensiva Quindi ragazzi veramente speriamo di recuperare Lulic Perché se no sarebbe un'assenza Veramente secondo me è molto grave Molto molto grave Quindi ragazzi io direi che Ho detto tutto Fatemi sapere la vostra su Marco Piazza Sono solo voci però Fatemi sapere il vostro eventuale gradimento per il giocatore Seguitemi su Instagram E like al video Condividetelo Iscrivetevi al canale Importantissimo Vi lascio i video di ieri Le pagelle di Lazio Brescia Brescia Lazio E le post partite di Milan Sampi In alto adesso nelle schede Recuperateli Bella E le post partite di Milan Sampi